questa sera siamo felicissime perché siamo all'hollywood di milano siamo approdati anche quale anno zero daniela cristina elena presentiamo il nostro pezzo nostro nuovo singolo bacia miss è un pezzo pop però è anche dance latino abbiamo spaziato abbiamo cambiato genere solo per questa volta è un singolo simpatico contiene anche un altro brano che è francesca e quindi abbiamo voluto fare un regalo a tutti coloro che amano seguirci nelle nostre serate dove si balla tantissimo e dove si canta tantissimo e con noi c'è natalie grusca che è una body art stupenda e le sue modelle naturalmente con la scritta la tua emozione per essere qui all'hollywood questa posso solo ringraziare che sono stata invitata per questo evento mi ha fatto molto piacere e spero che mio amaggio a voi vi è piaciuto guarda giovanni è molto umile oltre ad essere una bellissima ragazza ed è veramente brava nella sua arte è fantastica veramente quindi siamo contentissimi e poi usciremo a febbraio invece con un cd di 15 pezzi intitolato ti voglio dove ci saranno tante collaborazioni importanti grazie a tutti grazie a tutti